Allora ragazzi, faccio questo piccolo video di spiegazione, di approfondimento sul Dante D, visto che mi è stata posta una domanda e penso che la risposta possa essere utile per tutti. Allora, specifico meglio il discorso di lingua doc, lingua do il e lingua del sì che fa Dante. Allora, la lingua Dante non parla delle lingue moderne, dobbiamo capire che Dante non sapeva che le lingue moderne nascono dal latino, anzitutto. Non sapeva questa cosa, anche perché all'epoca era ancora molto diffuso il latino, per cui la nostra lingua moderna non era ancora chiara, come invece è chiara a noi che viviamo nel 2000 o alle persone che vivivano nel 900 o nell'800, ok? Eravamo ancora in una fase di transizione, non era ancora molto chiara la cosa. Quindi quando Dante parla di lingua fondamentale, Dante ha capito che c'era una grande lingua dietro queste, ma non ha capito che era il latino. Non ha capito il rapporto fra il latino e le altre lingue, assolutamente. Quando poi vedrete il video di geografia, capirete meglio questo discorso, perché abbiamo parlato molto anche delle lingue e dello sviluppo e della nostra delle lingue. Per quanto riguarda invece le tre lingue di cui parla Dante, la lingua d'Oc, la lingua d'Oil e la lingua del Si, fa riferimento, nel caso della lingua d'Oc e della lingua d'Oil, a due varianti del francese. La lingua d'Oc è quella lingua, meglio, che si parla nel nord della Francia, nel centro nord della Francia, in cui Si si dice Oc. Ed è una lingua che ha dato origine al nostro francese moderno, una lingua che si chiama francese antico, da cui si è originato il francese moderno. Nel sud della Francia, nella Provenza, che è tutta quella zona che comprende la costa azzurra, per cui la zona vicina alla Liguria, e buona parte anche delle Alpi, questa zona che oggi è una regione, si parlava all'epoca il dialetto, il provenzale, la lingua provenzale. Anzi, non è diretto, è la lingua provenzale. Il provenzale è una zona in cui, nella Provenza, è una zona in cui si dice Oil, Si si dice Oil e non si dice Oc, Si dice Oil. Quindi il provenzale, nel sud della Francia, si parla la lingua d'Oil, il provenzale. Nel centro nord della Francia, si parla la lingua d'Oc, il francese antico. Nella zona della penisola italica, si parla la lingua del Si, quindi l'italiano, anche se in realtà abbiamo visto che l'italiano è molto complesso, eccetera, eccetera, eccetera. Spero di essere stato utile con questo chiarimento, se avete ancora dei dubbi su questo passo, e comunque non è per niente facile, comunicatemelo e fatemelo sapere. Va bene? Grazie e buon lavoro!